Il Vescovo Pietro della Diocesi di Ischia scrive ai sindaci isolani, preoccupato per le condizioni economiche di molte famiglie, con la proposta di istituire diversi organi intercomunali in modo da creare una rete di assistenza per le tante famiglie che a caso della pandemia vivono un momento di profondo disagio economico. Carissimi fratelli, scrive Monsignor Lagnese, Dopo l'emergenza sanitaria siamo chiamati a fare i conti con una vera e propria crisi economica e sociale. Anche sull'isola di Ischia la situazione non è affatto semplice. Anzi, vi dico che sono molto preoccupato per le condizioni in cui si trovano tante famiglie schitane. A causa della pandemia crescono infatti, e di molto, i nuovi poveri sulla nostra isola e tante famiglie si trovano a far fronte a una situazione veramente difficile. D'altronde non poteva non essere così, in un territorio come il nostro dove l'economia si basa principalmente su un tessuto intrecciato di attività commerciali, artigianato, strutture ricettive e piccole e medie imprese. Lo testimoniano le lunghe file di persone in attesa nei centri di ascolto Caritas e le tante richieste che giungono alle parrocchie e che raccontano di un disagio forte in cui versano le tante famiglie. Ne contiamo 2.000 aiutate in questi mesi, ma si tratta purtroppo di un numero destinato ad aumentare. Nei prossimi giorni la Caritas si appresta a lanciare un'altra operazione di solidarietà denominata Natale Buono, volta a sostenere, in vista delle feste di Natale, le famiglie disagiate dell'isola. Il Vescovo quindi propone ai sindaci di procedere la creazione di un fondo di solidarietà intercomunale, di istituire un tavolo tecnico di concerto e confronto con le istituzioni comunali, le forze dell'ordine, la chiesa locale, l'ASRA, Napoli Due Nord, i dirigenti scolastici e le associazioni di categoria, di creare sull'isola di Ischia un osservatorio della povertà, di prevedere la costituzione di un organismo che possa essere presso il governo centrale, le regioni e le istituzioni di ogni ordine e grado, di programmare un ufficio di comunicazione unitario tra i sei comuni e prevedere iniziative unitarie finalizzate alla rinascita economica del nostro territorio.